Allora ragazzi, spero stiate bene, è un po' che non ci vediamo qui su YouTube, anche se ho continuato naturalmente a fare contenuti su TikTok e Instagram, ma per il fatto principalmente che mi avevo rubato la videocamera in treno e quindi era proprio un'impossibilità fare i video per me e appunto ne ho preso un'altra molto simile a quella precedente, in modo che siamo pronti a spingere anche qui sul canale YouTube con tanti video appunto anche un po' fuori dall'ordinario in cui non si parla solamente di alimentazione e palestra e proprio infatti per questo oggi parliamo del Mewing, questa tecnica di masticazione, di posizionamento della lingua che appunto è molto in voga adesso sui social e appunto da cui nascono trasformazioni del viso e anche funzionali proprio a livello di salute molto molto interessanti. Infatti questa pratica è stata inventata dal dentista John Mew che è britannico, ormai 50-60 anni fa appunto col nome di Mewing che significa miagolare, non so il motivo di questa cosa e praticamente consiste nel posizionare la lingua quando siamo a riposo in una certa posizione ovvero attaccata al palato superiore in modo tale che questo possa tra virgolette modificare le suture che sono le congiunzioni a livello del cranio e quindi stimolare la crescita sia della mandibola ma anche appunto proprio delle ossa del cranio questa cosa ovviamente è una qualcosa di sperimentale su cui ci sono pochi studi in realtà e oggi cerchiamo di capire un pochino quali sono le evidenze anche se empiriche di questo metodo se funziona o meno e quali sono i possibili benefici infatti il motivo dell'invenzione di questo Mewing è stato il fatto che appunto si è sempre notato di più da circa cent'anni questa parte che a livello del volto delle persone molte avevano delle modificazioni quindi magari avevano la mandibola che era molto indietro oppure molto in avanti facendo in modo che appunto la chiusura dentale non fosse uniforme e anche il fatto che tante volte la mandibola proprio era poco sviluppata questo viene imputato al fatto che tante volte oggi rispetto magari cento anni fa la dieta e lo stile di vita è molto modificato e ad esempio oggi non si mangiano più quei cibi molto fibrosi, difficili da masticare come possono essere frutte, verdura che appunto una volta si mangiavano in prevalenza nell'alimentazione mentre invece oggi con tutto il cibo industrializzato eccetera merendine, paste, biscotti eccetera sono tutte cose che appunto sono morbide e quindi a livello della mandibola non richiedono un grande sforzo e ciò ha fatto sì che dato che la mandibola è un muscolo tra l'altro uno dei più forti del nostro corpo ha fatto sì che questa diciamo si ipotonificasse perdesse di forza e questo ha causato tante modificazioni non solo a livello estetico che è anche un qualcosa che comunque è uno degli scopi del mewing anche quello di aumentare le dimensioni della mandibola cosa che oggi diciamo è un segno di bellezza comunque l'avere una mandibola molto larga ma anche proprio delle modificazioni strutturali a livello di postura quindi magari delle posture con il collo molto in avanti per una debolezza anche dei muscoli proprio del collo e appunto questo ha fatto sì che oggi ci siano delle mandibole molto poco sviluppate con anche delle arcate a livello del palato molto più ristrette anche a livello proprio di ossa questo problema di mala postura di una mandibola debole che quindi porta a un avanzamento proprio del mento e quindi una scorretta chiusura dei denti è aumentato dal fatto che comunque oggi con tutti i lavori classici da ufficio eccetera la maggior parte delle ore si passano con le spalle in avanti chiuse e spesso c'è anche un'ipotonia quindi una scarsa forza dei muscoli della schiena del toio di posteriori che quindi provocano questa postura sia brutta da vedere ma anche che porta a dolori a livello cervicale a livello appunto della schiena che sono classici appunto di chi fa lavori sedentari o anche diciamo non sedentari ma con una postura sempre diciamo protratta verso l'avanti un'altra modificazione che potrebbe dare il mewing dato che appunto si promuove di modificare le suture da cui appunto è attaccato il cranio si potrebbe modificare anche la sutura che è qui anteriore a livello del naso chiamato osso maxillare che appunto promuoverebbe anche l'allargamento delle narizie per tutte quelle persone che ad esempio hanno delle piccole ostruzioni o comunque ad esempio dei problemi di setto deviato o comunque soffrono di apnee notturne che quindi gli provocano uno scorretto riposo e quindi una stanchezza perenne durante la giornata e il mewing si dice che potrebbe anche risolvere problemi a livello di respirazione dato che appunto uno scarso passaggio di aria nelle narici promuove maggiore infezioni quindi raffreddori molto frequenti e anche per il fatto che l'avere la mascella debole fa sì che con il protrarsi del mento leggermente abbiamo un piccolo spazio tra le labbra che farebbe aumentare la respirazione quindi l'introduzione di aria a livello della bocca che come sappiamo non è protetta dai peli che ci sono nel naso e che quindi tralascia passare più microbi e quindi fa sì che appunto ci siano un maggior rischio di infezione ulteriore quindi i possibili benefici che prometterebbe il mewing sono uno scambio di aria a livello nasale appunto migliore che diminuirebbe le infezioni e le apnei notturne per le persone che appunto ne soffrono una migliore chiusura a livello delle arcate dentali facendo in modo che i denti non vadano a sporgere diciamo a destra, a sinistra, in avanti, indietro inoltre anche una maggiore delineatura a livello della mandibola che appunto va a portarsi più in avanti e non stando in questa posizione di retrazione appunto è appunto anche una migliore postura a livello del collo e della schiena sempre per il fatto che migliorando la forza della mandibola si aiuta anche la postura a livello cervicale ad esempio ma come si fa questo mewing? ovviamente io personalmente non ne sapevo nulla prima di fare questo video mi sono documentato e tutto e ho capito diciamo come si fa non è così facile da capire ma una cosa che mi ha aiutato molto a capirlo è partendo da questa posizione quindi di sorriso tra virgolette andare a posizionare la lingua cercando di far toccare tutto il palato e spingere verso l'alto non alla fine del palato ma circa a metà del palato verso l'alto e tutto questo senza far toccare la lingua la parte anteriore della lingua ai denti quindi sorriso non è una posizione sicuramente così comoda all'inizio lo dico anch'io che lo faccio da 2-3 giorni circa per provarlo ma ci dice le persone che lo fanno che col tempo verrà quasi naturale e ovviamente è una posizione che teniamo solo a riposo non quando parliamo non quando mangiamo eccetera per capire appunto se lo state facendo bene dovrebbe una volta che lo fate a livello qua della gola diminuire un pochino questo gozzo tra virgolette e dovete sentire che qua si attivano determinati buscoli questo diciamo è la conferma che lo state facendo nel modo giusto questo perché se andate a spingere solamente con la parte iniziale della lingua non ci sono questi benefici che appunto dicono di esserci dovete spingere quella parte centrale della lingua verso il palato e ovviamente spingere inizialmente ma poi dovete tenerla semplicemente in una posizione di rilassata senza continuare a spingere perché ovviamente non riuscite a farlo durante tutta la giornata cioè dovesse stare sempre lì a pensarci ma semplicemente tenerla appoggiata adesa completamente al palato superiore allora adesso parliamo un po' delle trasformazioni straordinarie che si vedono in rete tante volte queste sono semplicemente una diminuzione di grasso che fa sì che appunto anche il grasso che era contenuto qua a livello del collo diminuisca e appunto si noti questa grande trasformazione ma in quei casi lì ovviamente cioè l'immagrimento ha fatto molto di più di quello che ha fatto veramente il mewing che ripetiamo è una tecnica che è empirica e non ci sono veramente studi che affermano con certezza che questa funzioni i tempi diciamo in cui dovrebbe funzionare secondo appunto i guru del mewing eccetera sono circa sei mesi un anno in cui si hanno appunto cambiamenti significativi questo significa che è un qualcosa che dovete proprio adottare nel vostro stile di vita e non è diciamo un qualcosa che fate un mese e poi smettete cioè sarebbe da fare per tutta la vita in teoria quanto sia sostenibile questa cosa io sinceramente me lo chiedo non lo so nemmeno io perché io provandoci per due o tre giorni la sento come una cosa cioè difficile da fare cioè che ci devo stare lì a pensare poi se magari nel giro di 10-20 giorni diventa una cosa automatica non lo so queste persone dicono di sì personalmente proverò perché anche io soffro a volte di apnee notturne come sentite in una narizia rispetto all'altra è molto minore il flusso di di aria e quindi spero che possa migliorare anche a me questa situazione e quindi ci proverò farò vedere se ci sono dei miglioramenti se uscirà un nuovo video con i miglioramenti del mewing perché appunto ha funzionato se non ha funzionato magari lo dirò nelle storie Instagram eccetera e ne parlerò ovviamente non ci farò un video perché non necessita appunto quindi il senso è che dovete stare bene attenti alle trasformazioni che trovate in rete quindi dovete stare attenti ad una perdita semplice di grasso a livello del collo che ovviamente migliora la situazione qua a livello del gozzo sembrando la mandibola molto più definita dovete stare attenti alle trasformazioni che sono dovute alla semplice crescita a livello dell'osso che appunto definiscono la mandibola in maniera migliore quando si cresce è normale e dovete stare attenti a tutte quelle trasformazioni che sono causate invece da apparecchi diciamo messi da dentisti perché appunto ci sono degli apparecchi che è diciamo verificato che questi funzionano per espandere il palato e che quindi questi è certo che abbiano appunto degli effetti positivi però appunto non si sa tante volte se sono causati dal mewing o da questi apparecchi quindi dovete sempre stare attenti alle fonti da cui vengono queste trasformazioni e ovviamente se c'è un sito che sponsorizza il mewing che non so fa i video solo su questo mewing cioè dovreste accendervi un po' una lampadina e farvi capire che forse loro lo fanno anche un po' per portare acqua al loro mulino e non fanno pura informazione come può essere questo video in cui io ovviamente non ci guadagno nulla al fatto che voi proviate il mewing o meno quindi per venire alle conclusioni non ci sono scientifici che dimostrano con certezza che questa cosa funziona quindi anche io stesso diciamo proverò nei prossimi giorni questa cosa nei prossimi mesi e vedremo se effettivamente ci saranno dei risultati simili a quelli che diciamo sponsorizzano i guru del mewing e un'altra cosa un altro video che potrebbe aiutare tutte le persone che vogliono aumentare la forza la loro mascella è appunto uno degli esercizi dedicati alla mascella con una pallina speciale magari farò un video anche su questo ditemi nei commenti se appunto lo volete un'altra cosa che sicuramente aiuta a rafforzare la mascella è aumentare il consumo di frutta di vegetali comunque che appunto contengono molte fibre che quindi sono difficili da masticare come possono essere carote finocchi eccetera un'altra cosa che potrebbe essere consigliata sono i bastoncini di liquirizia che appunto apportano calorie che sono trascurabili e però rafforzano molto la mandibola andando sempre a masticare masticare dato che per mangiarli praticamente servono 5-10 minuti qui si mastica continuativamente sono anche buoni per chi per chi piacciono in tutti i casi se vi è piaciuto il video lasciate un commento mettete mi piace e magari lasciate un commento anche con le cose che volete vedere nei prossimi video condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo al prossimo video ciao